Il mondo della comunicazione è attento alle frodi e sofisticazioni nel mondo alimentare e in particolare nel mondo dell'olio perché interessano il pubblico e quindi fanno notizia e in quanto fanno notizia ovviamente hanno la necessità di essere riportati. La vecchia regola ovviamente del giornalismo non fa notizia il cane che morde il bambino ma il bambino che morde il cane. In questo senso le frode e sofisticazioni sono il bambino che morde il cane, sono l'eccezione ma l'eccezione che stimola anche un po' il gossip che è utile voglio dire anche a dare attenzione a un mondo che ha una piccola parte di frodatori, di contraffattori ma una grossa parte di persone sane che vogliono crescere e che devono anche loro aiutare a contrastare queste frodi per dare fiducia al consumatore. È importantissimo il contributo della scienza e dei ricercatori e anche dei giovani ricercatori che si sono riuniti qui perché i giovani ricercatori portano tanta innovazione, portano un modo differente di pensare e portando un modo differente di pensare portano anche delle innovazioni analitiche per esempio che possono aiutarci a contrastare le frodi e le sofisticazioni. È chiaro che è la classica gioco del ladri e guardie e in questo senso ovviamente è bene che le guardie siano supportate da metodi scientifici anche nuovi e innovativi per contrastare appunto i furbetti dell'olio.